Sì, dopo faccio ascoltare dei vinili, ho pronto dei vinili di Natale, un vero profese, grazie. Sai come si leva il preservativo? Sai come si leva il scureggio? No, ma perché ho fatto vedere questo messaggio? Cioè, tu Davide, siamo a Natale, almeno a Natale, non fate i cazzoni, Davide. Tu magari godi perché io, inavvertitamente, ho mostrato in sovraimpressione il tuo messaggio. Ma sai che godimento è? È un godimento di merda, come sei tu. San Patrinano è una grande famiglia, ci sono state quando aprivano al pubblico per vendere il loro prodotto.